allora l'obiettivo della lezione di oggi è quello di vedere la soluzione del laboratorio della settimana scorsa l'obiettivo del laboratorio era quello di andare a approfondire gli strumenti un po più avanzati di interazione che possiamo andare utilizzare in shiny allora l'obiettivo era partire dal dataset del laboratorio 6 quindi quello sui dati messi a disposizione dall'istituto superiore di sanità per andare a realizzare una piccola dashboard andando a riprendere alcune visualizzazioni ad esempio andando a prendere il grafico quello con l'andamento nel tempo di diagnosi e sintomi quindi che il grafico che viene riportato qua come come esempio ovviamente poi questo è quello che era presente la soluzione ovviamente poi ognuno può fare la propria variante quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo innanzitutto andare a poter caricare un file andando a fare una serie di verifiche innanzitutto l'estensione e poi una volta che abbiamo il file quindi con l'estensione corretta dobbiamo andare a verificare che esistano questi due tab casi inizio sintomi e casi prelievo prelievo diagnosi che ci permettono di andare a controllare che ci siano effettivamente i dati che noi dovremmo poi andare a utilizzare nella lettura del file xls in caso di errore normalmente viene generato in caso in cui normalmente il file non sia presente viene generato un errore per evitare che si interrompa l'esecuzione del server quello che possiamo fare è utilizzare questo questa funzione che si chiama try catch che riceve diversi parametri il primo è il codice che vogliamo andare a eseguire e di cui vogliamo andare a intercettare possibili errori e warning poi un parametro warning che dice la funzione che viene chiamata nel caso in cui il codice genera un warning e un'altra funzione che corrisponde alla parametro error che ci dice cosa fare nel caso in cui debba essere sia generato un errore ok abbiamo normalmente due tipologie di errori uno generato in questo modo e un altro che possiamo andare a controllare una volta che abbiamo i nostri casi per andare a controllare che ci siano i tab specifici una volta che abbiamo caricato questo quindi il file è disponibile possiamo andare a costruire il file il diagramma che è quello che vediamo qua sopra con però un'opzione andare a specificare se vogliamo andare a visualizzare soltanto i sintomi soltanto la diagnosi o entrambi se nessuno dei due due serie di dati selezionate viene memorizzato viene visualizzato un messaggio d'errore terzo passaggio fare in modo che sia possibile andare a definire due date che ci danno l'intervallo di tempo per cui vogliamo andare a visualizzare i dati dopodiché avere la possibilità di fare la selezione quindi quello che si chiama il brush sul grafico andando a estrarre i dati e andandoli a mettere dentro una tabella che cosa ci serve allora ho provato a schematizzare il tutto in questo modo allora questa se volete è l'interfaccia funzionante che contiene tutto abbiamo allora eccoci qua qua su in alto la selezione del file abbiamo qui delle opzioni di tipo checkbox che ci permettono di andare a selezionare quali linee visualizzare nel grafico sottostante e poi questo slider che permette di andare a selezionare un intervallo temporale la visualizzazione quindi questo e lo slider vanno a influenzare il comportamento di questo grafico quando io seleziono un'area all'interno del grafico cosa succede? vengono mostrate queste due descrizioni che ci dicono la selezione nelle due serie di dati cosa corrisponde e poi ci viene mostrata la tabella con tutti i dati dei punti che sono stati selezionati nel grafico quindi cosa abbiamo? abbiamo io qui vi ho spacchettato tutti gli elementi sia di input che di output abbiamo sostanzialmente tipo conteggio che è un input la selezione date che è un altro input il file ISS che è un altro input quindi questi sono i tre input che abbiamo quindi gli elementi che noi andiamo a inserire esplicitamente nell'interfaccia c'è poi un altro input implicito che è quello che è dato dal dal brush che io posso fare sul grafico ok? i due output sono questo grafico e la tabella tabella che però viene generata a partire dal brush su questo grafico quindi volendo andare a descrivere il reactive graph con le varie dipendenze per quanto riguarda il tipo conteggio avremo un tipo R tipo reactive che dipende dalle variazioni di questi di questa selezione un altro tipo reactive che mi dà la selezione delle date e poi ho qui l'ho spezzato in due per comodità volendo si poteva fare anche con un unico elemento reactive un primo elemento che sostanzialmente dipende direttamente dal file e verifica sostanzialmente che il file venga caricato e sia con la selezione corretta e un secondo elemento reactive che dipende dal primo e che sostanzialmente fa tutta l'analisi dei dati andando ad estrarre le informazioni che si trovano in quei due fogli del nostro file Excel una volta che abbiamo questi elementi questi sostanzialmente sono quelli che vanno a influenzare l'andamento temporale ok mi fermo qua e andiamo a vedere come possiamo costruire i pezzi di codice per andare a generare questa parte dell'interfaccia dopo vediamo la parte che riguarda il brush allora io ho iniziato a fare la soluzione con un'app e dopodiché l'ho trasportata all'interno di un documento markdown quindi con le solite opzioni vi largo un po' il testo così magari riuscite a leggere meglio con le solite opzioni quindi l'output è un html dom come utilizziamo come runtime shiny quindi quando lancio questo documento quindi non c'è più il 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 la preview ma c'è l'esecuzione del documento perché occorre lanciare il server shiny che comunica con il browser ora a parte il nostro chunk di setup con le varie librerie la media mobile eccetera che è abbastanza simile al solito noi abbiamo il primo elemento che è questo quindi il file input a cui abbiamo dato il nome di SS file con questa etichetta quindi upload file covid19 SS placeholder è sostanzialmente quello che compare dentro l'etichetta quindi se io vado a eseguire il documento vedete quello che trovo scritto qua dentro è quello che c'è quello che è specificato nel placeholder quindi qui posso scrivere qualunque cosa è semplicemente una seconda etichetta dopo questa principale che troviamo qui in alto che è invece quella che è l'etichetta dell'epoca poi abbiamo questo checkbox input group che dipende dal si chiama tipo conteggio ha due scelte che sono sintomi e diagnosi che hanno che sono inizialmente entrambi selezionati non vedo perché inizialmente non mi seleziona va bene l'etichetta visualizza e poi inline vuol dire che sono su una linea unica se ci stanno e poi abbiamo lo slider che è questo lo slider è un po' più complicato perché ha bisogno di due elementi quindi non è uno slider semplice ma è uno slider doppio con due valori quindi il nome dell'input è selezione date l'etichetta è selezione periodo temporale che è quella che vediamo qua sopra poi abbiamo un minimo e un massimo il minimo è primo gennaio 2020 il massimo è la data attuale quindi a seconda del momento in cui andiamo ad eseguire questo questo codice verrà generato un output leggermente diverso il valore iniziale è avendo la necessità di mettere due slider sdate primo febbraio 2020 e sysdate ok questo sdate scritto così è utile se io voglio andare a rappresentare le date in formato così italiano ma sostanzialmente equivale a scrivere un esdate usando la notazione iso 2020 0201 e quindi dipende un po' da quello che preferiamo da come preferiamo rappresentare le date il time format è come vengono stampate le date in questo caso invece vogliamo avere le date nel formato italiano quindi giorno mese anno ricordatevi che la y va maiuscola perché altrimenti se metto una y minuscola le date sono rappresentate su due cifre invece che quattro quindi se io metto y minuscolo e rilancio il documento vedete che le date a questo punto sono anno l'anno su due cifre invece che su quattro step di variazione uno abbiamo un certo ritardo di animazione e width 100% vuol dire che occupa tutta la larghezza disponibile l'output è dato da questo plot output l'animazione sostanzialmente è su come vengono mostrate le la il movimento e quindi non so esattamente dove dove interagisca perché comunque in realtà qua spostandomi funziona tutto può mettere il ritardo con cui dà la risposta sul play in basso a destra può darsi sì vediamo un attimo sì ok è vero il play mi dà passi nell'ordine di un secondo il plot ecco stavo dicendo il plot di nuovo è molto semplice perché abbiamo un certo id ecco l'unica cosa è che in questo caso vogliamo andare a mettere il brush che avrà questo identificatore e reset new vuol dire che quando rinnovo il grafico viene resettato e poi abbiamo la tabella vedete qui è molto molto semplice se volete la la versione app mi fermo questo la versione app è analoga dove abbiamo una fluid page va bene questo serve per andare a utilizzare il feedback che ci serve per dare l'output sulle errori di file e poi abbiamo questa riga che è il testo una fluid row un HR che è un horizontal rule quindi una riga orizzontale un'altra fluid row in cui abbiamo due colonne una in cui abbiamo il checkbox group e l'altra in cui abbiamo lo slider quindi è leggermente diverso rispetto a quello che otteniamo con la versione markdown e poi abbiamo un'altra fluid row in cui abbiamo plot output e data table output uno di fianco all'altro quindi in questo caso il diagramma e la tabella sono mostrati uno di fianco all'altro nel caso della della pagina markdown qui abbiamo il plot output e qui abbiamo data table output è possibile andare a utilizzare anche qui delle fluid row e delle diciamo le funzioni di formatazione della pagina che troviamo nella app in questo caso io ho messo semplicemente gli elementi perché era un po' più semplice da visualizzare e poi abbiamo il server il server è qualcosa che non genera nessun output ma semplicemente fa tutta la parte di gestione primo passaggio andiamo a verificare se l'estensione del file è xlsx questo diventa una variabile booleana e poi abbiamo un feedback warning che sostanzialmente ci dà un warning sull'output che si chiama iss file che quindi è il blocchetto che serve per selezionare il file lo visualizza quando not ok e il terzo parametro ci dice che è text ci dice caricare un file di tipo xlsx rec ok ci dice sostanzialmente che se non è ok quindi se non è stato caricato un file xlsx qui si ferma altrimenti questo valore reactive covid file diventa uguale all'input iss file quindi se io eseguo tutto scelgo un file che sta negli esempi ok ho tutto allora c'è qualche stranezza qua nella visualizzazione vedete che provo ad aprirlo in un browser magari visualizza meglio eccolo almeno qua si vede meglio allora vi ripeto la stessa cosa di prima ok a questo punto avendo caricato il file abbiamo anche la visualizzazione quindi se io provo a scegliere un file che sia ppt mi dice caricare un file di tipo xlsx quindi questo diciamo colorazione di arancione e il messaggio che vedete qua è quello che viene generato da questo feedback warning che abbiamo appena visto ok sostanzialmente avendo già caricato il file il mio valore reactive covid file ha già un valore che è quello che gli ho dato precedentemente perché in questo caso avendo provato a ricaricare un altro file di tipo sbagliato qui subito dopo aver dato il warning si è interrotto e quindi non è stato dato nessun valore nuovo al nostro sistema al nostro variabile reactive a questo punto ho un valore qui che chiamo r.dati di tipo reactive che vado a calcolare in questa funzione che osserva covid file quindi quando viene generato il contenuto per questo covid file cioè quando assegno un nuovo valore viene eseguita questa funzione ovviamente io potrei mettere tutto questo blocco qui in fondo ok e saltare un oggetto reactive allora un paio di verifiche ne vediamo una perché poi l'altra è praticamente identica abbiamo un try catch che cerca di andare a leggere dentro la variabile casi inizio sintomi il tab che si chiama casi inizio sintomi se tutto va bene niente questa funzione termina e prosegue se invece viene generato un warning questo lo stampa questo cosa vuol dire lo stampa in quello che abbiamo qui sotto ok alla fine in termini di interfaccia grafica nell'html non cambia nulla se invece ho avuto un errore quindi ad esempio ho cercato di leggere un tab che non esiste mi dà di nuovo il feedback con il tab come messaggio tab casi inizio sintomi mancante stessa cosa qui sotto casi prelievo diagnosi se non c'è mi dice tab casi prelievo di diagnosi mancante qui volendo c'è qui ma non c'era prima oltre al a stampare il warning sulla sull'interfaccia stampiamo anche in console quindi qui sotto a questo punto abbiamo il validate che permette di andare a controllare tutta una serie di casi per cui va a verificare che questo caso inizio sintomi non sia null altrimenti genera questo messaggio di errore e che casi prelievo diagnosi non sia null altrimenti genera questo messaggio di errore quindi questa è quella che è una validazione dell'input dopodiché qui non vado a riprendervi tutta la l'espressione perché è praticamente identica a quella che c'era già nell'esercizio del laboratorio 6 forse salvo qualche piccola differenza l'unica cosa che ho aggiunto è questo pipe e r.dati in questo modo il risultato di tutta questa elaborazione quindi vado a prendere caso inizio sintomi faccio inner join faccio una serie di operazioni e il risultato lo passo a r.dati quindi vado a scrivere dentro questo valore reactive salto un attimo questa parte sulle date e sul tipo poi ci torniamo tra un attimo sono sostanzialmente i valori reactive legati agli input di selezione date e di tipo conteggio qui necessito che r.dati contenga qualcosa in generale se r.dati è falso oppure null rack blocca l'esecuzione di questa visualizzazione r.tipo è sostanzialmente un valore reactive che corrisponde al nostro checkbox quindi sostanzialmente torno un attimo qua su è un array che contiene una qualche combinazione di questi due valori sintomi e diagnosi potrebbero esserci entrambi potrebbe esserci soltanto uno dei due potrebbe esserci nessuno queste sono le tre possibilità e ovviamente se non c'è nessuno dei due del mio grafico non posso andare a visualizzare nulla e quindi qui sotto quando devo andare a fare render plot faccio un validate la validazione mi dice che ho una necessità che la lunghezza di r.tipo quindi il risultato reactive val sostanzialmente mi dice che quello sarà un valore ma non me lo definisce ancora reactive invece è qualcosa che è direttamente legato a un input quindi reactive val spesso lo si usa per i valori intermedi a questo punto ecco qui il validate di nuovo usiamo validate per andare a fare una validazione dell'input quindi il risultato è che se io qui torno qua tolgo sia questo che questo vedete nessun tipo conteggi selezionato quindi il validate va a generarmi un messaggio d'errore che viene sostituito al render plot mentre il rack sostanzialmente mi verifica che ci siano i dati ma se non ci sono non succede nulla termina l'esecuzione il validate mi dice non c'è uno almeno almeno un tipo di conteggio ok dopodiché la visualizzazione ok qui c'è il primo pezzo domanda feedback warning è un'alternativa validate allora sì e no nel senso che validate ti sostituisce l'elemento ti sostituisce il contenuto quindi ti dà come abbiamo visto qua il messaggio di warning al posto dell'output il feedback ti dice sostanzialmente ti dà questo output che trovi qua te lo colora quindi è un po' più così vario non sono sicuro devo controllare se il feedback warning funziona con qualunque tipo di controllo quindi anche con l'output ok su questo non vi dico nulla di preciso perché ho un dubbio anch'io quindi non sono sicuro di solito il feedback warning è qualcosa che si usa sull'input di questo tipo ok a questo punto allora non sto a commentare più di tanto ecco dei dati cosa faccio allora i dati sono già stati elaborati sostanzialmente erano gli stessi dati che abbiamo usato nel laboratorio 6 quindi gli stessi passi di elaborazione qui vado a guardate che qui c'è un pezzo di commentato che vi tolgo perché è inutile qui vado a prendere sdate r.date di 1 ed r.date di 2 ricordate che r.date è definito appena qui sopra come la versione reactive di selezione date allora domanda può essere una soluzione alternativa a scrivere il filter sulla data in questo modo data in input region 2 punti range 2 a occhio direi di sì tra l'altro qui ho messo due filter ma volendo se ne poteva mettere uno solo diciamo che questa cosa questo filter potrebbe essere qui è doppio oppure potevo scriverne sostanzialmente uno con una virgola oppure un end oppure mi pare sia corretto l'altra quello che proponeva Giulio un attimo fa cioè date in vado a prendere sì questo forse less date non serve neanche perché probabilmente lo prende già come data due punti e questo sostanzialmente va a mettere va a fare va a crearmi l'intero range di date dalla data 1 alla data 2 allora proviamo subito ma carico il file ok e vado a ridurre sì ok quindi direi che funziona quindi queste posso anche lasciare tranquillamente non commentate tanto in realtà fanno tutti la stessa cosa quindi questa coppia oppure questo oppure questo ci hanno lo stesso risultato allora attenzione sul range questo in e poi il range funziona perché le date sono valori discreti se questi fossero stati valori numerici puri non funzionava perché ovviamente un range salta di uno in uno ok quindi in caso fossero stati valori numerici avrei dovuto per forza utilizzare una di queste due varianti allora domanda esiste una differenza tra usare un observe vivente per aggiornare un reactive oppure un semplice reactive con una rec all'interno potrebbero essere la stessa cosa la differenza è che con l'observivente io posso fare tante altre operazioni però tendenzialmente stavo pensando le differenze non mi viene in mente una in questo momento comunque verifico se effettivamente ci sono casi in cui per forza bisogna utilizzare uno dei due ok quindi a questo punto dati vengono filtrati rispetto a quelli di partenza e poi passo tutto al ggplot con estetica line eccetera 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 ok quindi tutto questo è abbastanza simile a quanto visto precedentemente è una variante credo analoga alla soluzione del laboratorio 6 non sono sicuro che sia esattamente identica alla soluzione che abbiamo visto ma grosso modo è quella quindi di nuovo non mi soffermo più di tanto poi allora qui ci sono le notazioni che dipendono dalla selezione e quindi lasciamo lasciamo dopo e poi sostanzialmente finiamo con g ok abbiamo salvato non ve l'ho fatto a notare g freccia quindi andiamo a salvare dentro g il ggplot che abbiamo dobbiamo generare dopodiché se dobbiamo fare annotazioni le facciamo sono gli if che sono sotto ma ci torniamo dopo altrimenti alla fine restituiamo g che è quello che verrà passato a render plot il quale sostanzialmente non andrà a mettere nell'andamento temporale che è l'output quindi avendo i due reactive su il checkbox e sul sul nostro slider automaticamente cambiando questi viene rivalidato tutto e quindi vado a generare il plot in maniera diversa ok abbiamo visto i messaggi d'errore a questo punto l'altra parte è quella un po' più complicata che riguarda il brush quindi cosa succede con il brush sostanzialmente ho la selezione di un qualcosa che deve essere messo come output in una tabella quindi abbiamo visto nell'input nella parte di input eccoci qua che per il plot abbiamo un brush ok e qui sotto a un certo punto abbiamo ok abbiamo questo reactive val che è cell brush che non è esattamente quello che ci gestisce brush ma è un qualcosa di un po' più complicato sostanzialmente qui vado a usare un observivente sulla variazione del brush e poi vado a fare un po' di elaborazioni l'input è quello che abbiamo specificato prima dopodiché vado a prendere i punti selezionati con il brush il data frame è quello che abbiamo selezionato prima i dati reactive il brush è l'input che abbiamo ricevuto per l'appunto c'è un po' di formatazione dei 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 tipi delle variabili dopodiché qui vado a selezionare soltanto gli elementi sintomi o diagnosi nel caso in cui cioè viceversa soltanto diagnosi o diagnosi nel caso in cui non siano selezionati perché ovviamente qui il brush mi dà dei dati di selezione generali che vanno a selezionare tutto quello che ci sta in data frame quindi devo andare a effettivamente scartare quelli che non sono in quel momento visualizzati e poi vado a fare un cell brush cell dati quindi vado a mettere dentro questa variabile reactive i dati qui sotto vado a calcolare le medie ma ci arriviamo dopo e poi il render table vabbè mi dice option page length 5 ma quindi ho semplicemente 5 righe dopodiché se nrow del cell brush è maggiore di 0 quindi qui rec cell brush mi dice che è richiesto cell brush quindi se ho selezionato almeno una riga allora il risultato è cell brush altrimenti validate nessun dato selezionato avrei anche potuto scriverlo avrei anche potuto scriverlo need cell brush cell brush maggiore di 0 e poi nessun dato selezionato ehi se non ho sbagliato e poi semplicemente cell brush poi di solito quello che facciamo è di mettere un rec da solo e need ok validate perfetto questo è un po' più simile a quello che abbiamo scritto negli altri casi quindi vado a fare un render table con 5 righe pretendo che ci sia un cell brush quindi che sostanzialmente abbia fatto un brush e questo mi abbia dato un valore a quella variabile reactive voglio che ci sia almeno che ci sia almeno una riga e poi faccio un cell brush quindi questo è il risultato che viene poi visualizzato lancio il documento così verifichiamo che tutto funzioni esattamente come prima ok a questo punto se io vado a selezionare qui una certa area ah qui forse dovevo andare a mettere label allora forse ho sbagliato la sintassi di validate ah no scusatemi l'ho messo fuori forse ci siamo scusate ok a questo punto abbiamo i dati direi che qui c'è qualche problemino non sto a a cercare l'errore che probabilmente è qua sopra da qualche parte quando ho selezionato i dati ok quello che volevo aggiungere invece è la parte di di media quindi come faccio a mantenere le medie uso questa variabile questa coppia di variabili reactive quindi reactive val mi definisce una variabile reactive intermedia come quel cell brush reactive values invece mi definisce un gruppo di variabili reactive che sono quelle che sono elencate qua quindi abbiamo due variabili sintomi e diagnosi che sono sostanzialmente il valore medio di sintomi e diagnosi della selezione che è stata fatta come faccio a assegnare un valore a quelle variabili beh sostanzialmente qui se il numero di righe selezionate è maggiore di zero vado sostanzialmente a dire se ho selezionato un qualunque valore di tipo sintomi quindi se nel data frame selezionato quindi dentro se il dati la variabile tipo è uguale a sintomi in almeno un caso allora la media di sintomi è uguale se il dati filtro su tipo uguale a sintomi e poi vado a prendere la colonna casi e calcolo la media e vado a mettere dentro r.avg sintomi questo valore in realtà posso scriverlo direttamente dentro che faccio prima quindi prendo i dati li filtro per il tipo sintomi perché qui sto parlando di sintomi e poi vado a prendere vedete questo qui il punto serve a indicare il data frame che è il risultato delle espressioni precedenti il doppie quadre se ricordate una delle prime lezioni di R è la colonna e lì vado a specificare il nome della colonna e poi uso il vettore risultante come parametro della funzione min se invece nella mia selezione non ci sono valori di tipo sintomi dico r.avg sintomi null per questo esempio se vado a selezionare soltanto un'area di questo tipo calcolo soltanto la media della diagnosi per i sintomi non metto null viceversa e poi sotto vado a dire se ho selezionato almeno una riga con diagnosi vado a calcolare la media di diagnosi e anche qui se non ho trovato nessuno con diagnosi metto null quindi di nuovo ad esempio qui sotto se vado a selezionare soltanto questo con soltanto elementi di diagnosi vedete calcolo soltanto questo e non l'altro else quindi se il numero di righe è uguale a zero quindi il mio brush non ha selezionato nulla quindi ho fatto così r.avg sintomi e r.avg di diagnosi vanno tutte e due a nulla adesso allora domanda l'etichetta è un normale germtext no adesso ci arriviamo un attimo quindi che cos'ho? ho questi due valori che sono la somma scusate la media di sintomi e la media della diagnosi come li visualizzo torno nel codice che avevamo saltato prima eccolo qua se non è null r.avg sintomi e sintomi in rt poi in realtà questa seconda parte possiamo omettere nel senso che comunque sotto già l'avamo escluso quindi se è un valore non null quindi ho selezionato almeno un punto di sintomi e quindi ho una media che cosa faccio? vado a mettere due cose il primo è questo h-line h-line sta per horizontal line forse l'avamo già usato non so se h-line o v-line ma mi pare l'avessimo usato in qualche esempio questo ha un parametro che si chiama y-intercept quindi l'intercepto dell'asse y e qui andiamo a mettere sostanzialmente il nostro valore medio calcolato qui ho messo come colore viola line type uguale a 2 vuol dire che è tratteggiato e poi uso questo metodo che si chiama annotate annotate serve per andare a mettere un'annotazione che non sia strettamente legata a un a dei dati se volessi utilizzare un geom text normale dovrei andare a costruirmi un data frame con le colonne che corrispondono a x e y e quindi sostanzialmente avendo x data y casi mm colore tipo qui avrei dovuto andare a costruirmi un data frame con quelle tre colonne oltre la colonna label per andare a descrivere il contenuto quando utilizzo annotate vado a riferire una geom quindi uso un geom text ma in maniera un po' anomala ovvero invece di andare a fornire il data frame vado a fornire tipicamente un dato ma in realtà potrei anche definire dei vettori in cui vado a dire la x di questo geom text è data input selezione date quindi in realtà qui è l'input di queste selezioni qua quindi la data minima che compare nel mio grafico y uguale la media quindi se vado a selezionare questo vedete che la media o l'altezza è la media e l'annotazione è alla data minima label è un questo paste media selezionata a capo data sintomi round ravage sintomi virgola zero quindi non ho messo nessun valore decimale h giust uguale a left quindi vuol dire lascio la coordinata orizzontale alla sinistra family il tipo di font che ho utilizzato quindi un font con serif di tipo bold colore orange e dimensione 5 quindi l'annotate mi serve se io voglio andare a mettere non tanti dati usando una geometria ma voglio andare a mettere un dato specifico in una certa posizione e allora dico voglio utilizzare un geom di tipo text e qui specifico uno dopo l'altro tutti i parametri di questo geom text le annotazioni sono fatte non tanto in base ai dati ma piuttosto in una maniera ad hoc nulla vieta come dicevo prima di andare a costruire su un data frame e utilizzare un geom text utilizzando quel data frame come dati questo è per i sintomi e abbiamo sotto uno uguale per la diagnosi ok ecco l'unica differenza qui è che la variabile x è il massimo che ho nel mio selettore la media ovviamente è la media della diagnosi e l'h giusto uguale a right ovvero allineo diciamo al margine destro che è dato dalla data massima a questo punto torno un attimo al grafico grafo reattivo quindi abbiamo r date r tipo ed r dati questi tre sono quelli che ci permettono di andare a gestire l'andamento temporale di base oltre a questi abbiamo il nostro andamento temporale brush che è legato a questi due valori reattivi sel brush quindi i dati selezionati tramite brush e la media delle due serie per i dati selezionati ok teoricamente io potrei anche omettere questo e andare a ricalcolarmi quei due valori all'interno del plot delle render plot ok potrei anche fare in quest'altro modo a questo punto aggiungo quindi r average va eventualmente a influenzare l'andamento temporale perché mi mette la mente di andare a mettere queste due etichette qua quindi se cambio il brush aggiungo e se cambio sel brush ovviamente i contenuti di questo vanno a finire direttamente la tabella di selezione ultimo pezzettino di questo serie complessa di legami quando io vado a cambiare la data ma in realtà anche il tipo devo sostanzialmente andare a invalidare sia la media che il sel brush ok se ho fatto un brush e cambio l'orizzonte temporale ecco che ragionevolmente quella selezione lì non è più valida per cui torno nel mio codice ho questi due pezzettini qua che sono observivente r.date e r.tipo e quando vado a modificare r.date vado a mettere sel brush a null sintomi a null media sintomi e media di energy a null stessa cosa quando vado a modificare il tipo sel brush lo metto a null r sintomi e media sintomi e media di energy anche questi a null di nuovo tornando all'osservazione che c'era prima sul observe event rispetto a un reactive sì potrei qui dentro andare a mettere nel render table e nel render plot del codice che mi dice che se sel brush se la data è cambiata allora devo annullare questi valori però ovviamente dovrai tenere presente della la data precedente perché ovviamente io potrei andare a cambiare il contenuto anche per altri motivi ok quindi in questo modo semplicemente rispondo a questo semplice evento ho cambiato le date e quindi cambiando le date cambio tutto il resto cioè annullo la selezione che avevo fatto prima e quindi l'idea è questo risponde all'evento e fa delle cose molto ampie quindi non specifiche il reactive e poi il render servono semplicemente andare a ridisegnare se è cambiato il dato con la selezione ok questa è una possibile soluzione l'altra possibile soluzione è questa con l'app quindi abbiamo la user interface che abbiamo visto prima con tutti gli elementi che abbiamo visto il server che è la funzione praticamente identica a quel codice che abbiamo visto prima e ovviamente la nostra chiamata al shiny app qui se io stoppo questo e lancio l'app ho la mia app con con vede che in questo caso ho una riga unica con tutto ho fatto ho fatto qualche modifica per cui questi dati non c'entrano non sono formattati correttamente ho una riga con il grafico e la tabella mentre invece nel markdown avevo semplicemente il grafico e poi sotto sotto il grafico avevo la la tabella però sostanzialmente gli elementi sono lo stesso qui di nuovo non capisco perché quando sono selezionati non li vedo ma ovviamente è un mal funzionamento momentaneo ok allora domanda la visualizzazione che dovremmo elaborare nella seconda fase dell'esame avrà una complessità simile a questa molto di più no ovviamente no questo è un caso molto complesso io mi aspetto che voi allora un esempio di tema di esame è il prossimo laboratorio di giovedì dove si possono scegliere alcune visualizzazioni alternative ad esempio se ho un diagramma barre lo posso ordinare in maniera crescente o decrescente oppure in maniera alfabetica ecco in quel caso mi aspetto che voi possiate andare a mettere anche semplicemente un elemento di scelta come questo quindi banalmente senza complicare troppo un chairbox group che mi permette di andare a selezionare che tipo di ordinamento fare oppure se abbiamo un intervallo molto ampio potete avere uno slider che vi permette di andare a identificare un sotto insieme dell'intervallo da mostrare tendenzialmente i dati sono fissi quindi non avete la necessità di caricare i dati con un file come in questo caso cioè il file è presente ci sarà la cartella dati e al suo interno c'è il file csv o excel già pronto quindi quella parte di upload del file non c'è e normalmente avrete mi immagino un controllo molto semplice che vi permette di gestire un dettaglio o due al massimo quindi decisamente più semplice rispetto a questo è ovvio che questo mette assieme tante cose quindi l'idea è che voi abbiate un'idea di come funzionano i vari elementi poi nel contesto dell'esame andrete a scegliere un sotto insieme quello che è significativo per la specifica visualizzazione che dovete andare a ricreare quindi giovedì vedete un esempio ecco l'esempio di giovedì forse è abbastanza semplice ok però è più è più vicino a quello che potrebbe essere l'esame rispetto a questo a questo esercizio però ovviamente gli esercizi di laboratorio devono essere un po' più complicati altrimenti il rischio è che impariate le cose semplici e poi appena fate qualcosa di un pochettino più complesso avete problemi invece a scendere è sempre più facile l'altro aspetto che troverete nel laboratorio di giovedì ma comunque lo riprenderemo poi lunedì prossimo nella soluzione cioè focalizzeremo più che altro quello è l'analisi della qualità dei dati ok per cui rispetto all'ultima lezione asincrona che vi ho pubblicato l'idea è di andare ad analizzare i dati che sono stati visualizzati secondo quei vari criteri di qualità che sono applicabili a un grafico e quindi nella parte diciamo così di analisi adesso vi richiamo la struttura dell'esame che è questa quindi la prima parte fatta il respondus un'ora vi viene dato un grafico e voi dovete analizzarlo come avete già fatto all'inizio del corso come poi rifarete giovedì prossimo in più tra diciamo i criteri di analisi è anche la qualità dei dati e poi ci sono tre domande di teoria un po' più generali non specifiche sulla parte pratica di R che è quella che abbiamo visto in questa seconda parte di corso la seconda parte è quella da fare poi a casa ovviamente nell'analisi del caso di studio voi andrete a scrivere alcune indicazioni di come intendete riprogettare il vostro grafico e andare a realizzare il grafico risultante quindi non mi aspetto che voi andiate a darmi una descrizione precisa puntuale e esatta però se mi scrivete che volete fare un diagramma a barre e poi mi fate un diagramma a punti a linee un box plot o una cosa che non c'entra nulla con un diagramma a barre ecco quello ovviamente è un aspetto di mancata coerenza è ovvio che nel redesign potete anche quindi nella parte in respondus andare a identificare magari un paio di alternative che possono risolvere i problemi che avete evidenziato ecco mi aspetto che poi nella realizzazione pratica che farete riprendiate quella diciamo ragionamento e andate a dettagliarlo poi è ovvio che avete visto benissimo dal dire faccio un diagramma a barre con queste categorie e questa grandezza da lì al grafico vero e proprio e tutti i dettagli insomma c'è abbastanza lavoro ci sono un sacco di scelte più o meno grandi e più o meno significative quindi mi aspetto che quella parte lì poi la facciate con calma e con buona cura domanda nella prima parte dell'esame si possono ottenere appunti no è un esame tipico di respondus quindi non c'è non dovreste avere niente e nessuno per quanto riguarda le domande di teoria non sono domande particolarmente dettagliate e quindi sono i concetti generali non vi chiedo cose estremamente precise anche perché non abbiamo fatto teoremi o messo valori particolari le domande di teoria sono domande chiuse il resto la parte di analisi invece sono tutte domande aperte ok altra domanda visto che l'esame è il primo luglio e bisogna avere gli esami registrati entro il 5 allora io sono dieci anni che continuo a ripeterlo evidentemente la segreteria non ha intenzione di chiarire questo aspetto il 5 è la data entro cui occorre aver superato l'esame visto che l'esame ha come data ufficiale il primo luglio voi sicuramente superate l'esame e lo superate entro il 5 normalmente le segreterie vi permettono se anche non avete entro il 5 l'esame registrato di iscrivervi e tenere l'escrizione in sospeso normalmente c'è una settimana di tempo dalla scadenza del 5 al momento in cui le segreterie fanno effettivamente il controllo che voi abbiate tutti gli esami registrati superati e superati quindi voi potete tranquillamente iscrivervi alla fare la domanda di laurea e se per il 5 non ho ancora pubblicato i voti non succede nulla perché tanto li pubblicherò uno o due giorni dopo e li confermerò magari in giro di 24 ore per cui sicuramente ricadono in quella settimana di margine che le segreterie danno quindi non dovrebbe esserci nessun problema siete adesso non so quanti sarete iscritti al primo appello ovviamente mi serve un po' di tempo per per correggerli però se il primo luglio la cadenza allora il primo luglio il primo luglio scusate sto guardando che giorno è e un giovedì ragionevolmente mi posso aspettare che voi consegnate il tutto dentro il 5 il 5 sera in modo che abbiate un po' di tempo per farlo e quindi diciamo entro il 7 indicativamente a meno che tutti gli iscritti al corso non diano l'esame al primo appello però normalmente c'è un 60 e 40 nel passato indicativamente verso il 7 vi pubblico gli esiti al massimo l'otto mattina e quindi entro il 9 al più tardi i voti dovrebbero essere registrati poi potrebbe esserci un'invasione delle cavallette o un terremoto però normalmente diciamo che entro quella settimana dovrebbe essere tutto a posto ok ok allora direi che a questo punto per oggi possiamo chiudere qui vi pubblico sul solito repository le soluzioni che abbiamo appena visto anzi faccio la correzione perché c'erano le colonne della tabella che non erano a posto e poi ve lo pubblico e vi ricordo l'ultimo laboratorio di giovedì dove ci sarà un un simile tema d'esame e il giovedì della settimana prossima invece ci sarà un seminario quindi avete visto l'annuncio su Slack è di una una persona che lavora in azienda che si occupa di visualizzazione come lavoro principale dell'azienda quindi è interessante andare a vedere cosa fanno e quali sono gli aspetti gli aspetti interessanti direi che per oggi con questo chiudiamo noi ci rivediamo lunedì prossimo e invece giovedì il solito laboratorio buon pomeriggio a tutti